Non mi ricordo una cosa bella, questa è molto bella, no, non mi ricordo, non mi ricordo. Ok, tu ti ricordavi queste cose, tu invece dove, oggi no, dove, oh, oddio, non riesco a scendere. Beh, quello che abbiamo fatto noi, tutto questo. Ah, sì. Oddio, 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 oddio. Ma chi è l'altra signora? Ecco, ecco, chi è? Oh, che freddo. Vanno di là? Io adesso andiamo là, andiamo pure noi, vuoi stare là? Perché io sto lì così. Ecco, ecco, ecco.